buongiorno cari amici mi ha voluto un attimino allora se no troppo vicino lo schermo vedete dall'immagine di video copertina dedicata alla ferrari di buon aspic è proprio poco prima che inizia questo video della bellissima notizia del rinnovo del contratto con la scuderia di maranello da parte dal secondo nostro pilota ferrarista lo spagnolo carlos sainz che continua su continuerà il suo legame lavorativo e professionale con la ferrari per altri due anni per ora fino al 2024 poi oltre a questo volevo segnalare invece per quanto riguarda noi nella città di Trani domani avremo la bellissima inaugurazione del ristorante tutto dedicato al mondo della disabilità che ci tengo a dire essendo anche io un po' come dire protagonista in alcuni progetti magari non dal centro Jobel ma in altri che non bisogna mai spaventarsi dalla disabilità ma bisogna partire da qui per creare qualcosa di importante qualcosa di fondamentale di prezioso e di bello quindi credo centro città di Trani dalle parti credo della piazzetta dove poco più avanti abbiamo credo San Luigi quindi il ristorante del giullare a cura del centro Jobel di Trani con la presenza ovviamente anche di figure professionali come gli chef e i ragazzi Trani e Bicelli quindi in bocca al lupo a tutti loro per questa bellissima avventura sicuramente penso che proverò prima o poi questo ristorante bene ma veniamo ai veri motivi di questo video che sono per quanto riguarda sia la Formula 1 protagonista in questo fine settimana a Dimola in Emilia Romagna e anche la MotoGP in Portogallo ma partiamo ovviamente dalla Formula 1 dove ritorna prima volta quest'anno la gara sprint l'assegnazione dei punti dove vedo qui dalle mie notizie di riferimento praticamente l'ottavo piglia solo un punto il primo il massimo 8 punti e ora veniamo al programma venerdì 22 aprile conferenza piloti che non so se è finita iniziata alle 10 prove libere no scusate mannaggia oggi è giovedì mi sto portando già avanti va bene quindi domani 22 aprile conferenza piloti ore 10 prove libere 1 ore 13 e 30 14 e 30 qualifiche ore 17 e 18 sabato 23 aprile avremo le prove libere 2 dalle 12 e 30 alle 13 e 30 la gara sprint dalle 16 e 30 alle 16 e 30 e domenica 24 aprile la gara alle ore 15 passiamo ora alla MotoGP dove diciamo che comunque ho letto sempre poco fa di un Mark Mark scarico pronto a tornare ai livelli che siamo abituati a vederlo l'importante mi auguro per lui che diciamo smettano le cadute che lo imperversano in questi ultimi tempi nelle gare nelle prove libere o qualifiche qui si parte invece da oggi giovedì 21 aprile questo pomeriggio alle 14 e 15 pedo passo ore 18 conferenza stampa piloti MotoGP ore 19 e 15 racebook venerdì 22 aprile ore 9 e 55 prove libere 1 moto 3 alle 10 e 50 le prime libere della MotoGP alle 11 e 50 le prime libere della Moto2 alle 12 e 50 il pad of clive alle 14 e 05 il pad of clive alle 14 e 10 le seconde libere Moto3 alle 15 e 05 le seconde libere della MotoGP alle 16 e 05 le seconde libere della Moto2 alle 17 pad of clive show alle 17 e 30 il Talent Time sabato 23 aprile alle 9 e 55 le terze libere si parte con la Moto3 alle 10 e 50 la MotoGP alle 11 e 50 la Moto2 alle 12 e 50 e 13 e 15 il pad of clive alle 13 e 30 qualifiche Moto3 alle 14 e 30 le quarte libere della MotoGP alle 15 e 10 qualifiche della MotoGP differite su di vuoto dalle 19 e 30 alle 16 e 10 le qualifiche della Moto2 alle 16 e 50 il pad of clive alle 17 il pad of clive show alle 17 e 30 il Talent Time alle ore 18 la conferenza stampa qualifiche si chiude il programma il richissimo programma domenica 24 aprile alle 10 e 15 warm up Moto3 due MotoGP alle 11 e 50 il pad of clive alle 12 e 20 iniziano le gare si parte con quella di Moto3 differita su TV8 dalle 23 e 20 alle 13 e 15 il pad of clive alle 13 e 30 il grid alle 14 gara MotoGP differita su TV8 a partire dalle 21 e 50 alle 15 zona rossa alle 15 e 30 gara Moto2 differita su TV8 dalle ore 20 e 05 alle 16 e 30 zona rossa alle ore 17 Race Anatomy MotoGP e concludo dicendo che presumo mi auguro per chi non ha Sky io sto messo bene diciamo abbiamo Sky a casa che quando riguarda il Gran Premio dell'Emilia-Romagna di Imola Formula 1 2022 spero che sia tutto in diretta anche su TV8 magari in leggera differita e poi voglio ricordare inoltre come oggi è il grande giorno oggi esce il primo dei due tra MotoGP e Formula 1 videogiochi prodotto videoludico di MotoGP 2022 credo che gli appassionati di MotoGP che non si perdano un capitolo della serie videoludica penso che magari lo abbiano già preordinato acquistato e quant'altro mi raccomando facciamo tutto questo in maniera legale per non rovinare il lavoro il duro lavoro che viene fatto dalle aziende per produrre questi videogiochi intanto vi ringrazio perché piano piano stiamo raggiungendo l'obiettivo che per me è già straordinario dei 100 iscritti noi ci vediamo alle prossime occasioni cordiali saluti da Nicola De Lucia con affetto ciao